Buonasera a tutti voi, oggi ho un brevissimo, presento un po' un'esperienza legata a un sostenibilità e la città del futuro, cercando di dare un'introduzione a un aspetto che ancora marginalmente abbiamo toccato. Noi quando siamo nati come realtà siamo nati cercando di rispondere a una domanda, cioè com'era possibile conciliare un'aspirazione, un'intervento nel quotidiano, nel concreto, nell'esistenza legato a principi di sostenibilità, a proposizione di principi di sostenibilità, su un contesto dove il lavoro e l'economia è comunque preponderante. Per questo è un grosso tema che investe quotidianamente, perché comunque abbiamo a creare con un sistema economico che ci assorbe energie, nel quale volenti o nolenti siamo partecipi. Quindi la nascita e il problema che ci siamo posti è stato come intervenire in quel contesto. Quest'ottica partendo dall'inizio, diciamo prima di rinascere, abbiamo avuto diverse esperienze, anche singole, molti arrivano dall'associazionismo di base nel campo dei movimenti ambientalisti, alcuni di noi dalla militanza di base nei movimenti della pace. Quindi varie realtà eterogenee che a un certo punto si sono incontrate, si sono posti il problema, ok, che faccio da grande, perché come faccio anche a conciliare una grande parte della mia vita che l'aspetto dedicato al lavoro con un'applicazione di principi che devo non soltanto esprimere ma cercare di rendere concreti. In quest'ottica comincia nel 94 un primo abbozzo di idea con la formazione di un'associazione che è un'associazione tesa a cercare di costruire, di darsi un'idea. L'inizio è stata la formazione di una realtà associativa nella quale si è maturata alla fine l'idea di dare vita un'esperienza lavorativa. Un'esperienza lavorativa che si concretizza nel 99, alla fine del 99 con la nascita della Reseda. Un'esperienza di impresa, di impresa operativa, di impresa operativa sociale integrata. Nei primi che operi, questo già all'epoca la operazione sociale conduceva ad affermarsi, la grande novità è sui percorsi di chi è andato a fondare la Reseda un'impresa operativa sociale integrata che operasse nel campo della sostenibilità ambientale e non solo nel campo della sostenibilità sociale. Perché diciamo che prima di noi, e questo lo dico veramente in assoluto prima di noi, in Italia non esistevano cooperative che facessero tutte e due le cose sociali. Che operassero nel campo della sostenibilità sociale, quello sì, ma anche ambientale in particolare sul fronte, vi so che non si può fare tutto, sul fronte della sostenibilità energetica, delle fonti energetiche rinnovate. Nel 2001, quindi dopo due anni di attività, il lavoro che stavamo cominciando a impostare, a manifestare, ha portato ad esempio a ricevere il premio europeo della T-Job, quindi del lavoro verde, come riconoscimento del lavoro. Nel 2003, anche sulla spinta della nostra esperienza che cominciava a essere nota, cominciano a nascere in Italia altre cooperative sociali integrate che si occupano di fonti rinnovabili o di risparmio energetico. Cui una serie, soprattutto all'inizio, abbiamo sostenuto la nascita di questa realtà. Quali sono i punti cardine legati all'affrontare l'economia? Innanzitutto, l'essere senza scopo di luco. Uno dei punti fondamentali di azione sul fronte economico è stata fin da subito dare una priorità, questo non lo facciamo solo noi, però centralizzare e dare una priorità al lavoro rispetto al dipinto. Quindi non essere finalizzati all'inizio, alla creazione di profitto, ma puntare alla creazione di lavoro direttico. In un'epoca di neoliberalismo, in cui gli effetti questi ultimi anni stiamo vedendo, credo che sia una cosa contocorrente, ma più importante. Ed è anche un po' la nostra idea di proposizione su quello che deve essere la città del futuro. La città del futuro deve essere qualcosa, una città dove comunque la priorità è il lavoro della persona. Anche altre priorità, chiaramente, ma su quell'aspetto sì, economico, dare un lavoro più importante del profitto. Un lavoro solidale, un lavoro inclusivo, di collaborazione, un lavoro che proponga tecnologie economiche. Questi sono stati i tre capisaldi, quindi tecnologie appropiate, che sappiano proporre dei cambiamenti del quotidiano del futuro. Un lavoro solidale, per come si è riconosce. I punti cardine sono sempre stati la difesa dell'ambiente e un'azione economica intesa come altra economia. Un'altra economia, un'economia differente, un'idea, in un certo senso, questo è un po' uno slogan che abbiamo sempre usato, energie da condividere. Per come l'idea, noi abbiamo delle energie, abbiamo delle competenze, non siamo autologi, ma sappiamo fare delle cose e queste cose le dobbiamo condividere. È un futuro da preservare, un futuro da preservare anche in un'ottica ambientale. Noi l'economia, attento da un'economia ecologica, è un'economia che non cresce, è un'economia che quando mi ha dato quello che serve si ferma. Quindi non abbiamo ambizioni di sviluppo, di crescita, così erotica. Con un principio di base, che un altro modo è possibile. Uno slogan che se siete usati, un altro mondo è possibile. Noi abbiamo preferito dire un altro modo è possibile. Cercare di applicare questo aspetto. Quindi non solo pensare, sognare un altro futuro, ma il dire io posso fare in un altro modo. Che significa riseda poi su alcuni aspetti concreti? A livello di nome la riseda è quella piantina lì disegnata, cioè la riseda luteo, una pianta che si trova anche nel nostro territorio dei castelli romani, immagini dei campi, in passato utilizzata fino agli anni 50 come pianta tintoria. Poi soppiantata, si usava per tingere di giallo i tessuti, poi soppiantate dalle tinture derivate dal petorio. Quindi già il nome è significante, tutti i nomi sono significanti. Quindi anche già la scelta del nome per noi è stata significante recuperare qualcosa di piccolo che c'è, distribuito, che calpestiamo quando facciamo le passeggiate, ma che è importante, che è stato importante e che può ritornare a essere importante. L'ambito, questi anni, abbiamo come attività, per esempio una realtà piccola, una realtà piccola come numero di persone sviluppato su energie in ambito internazionale, seguendo molti progetti di carattere europeo, sia legati a progetti sostenuti dalla Commissione europea, passato da programmi Antenar, adesso da programmi Intelligent Energy for Europe, che questa dimensione internazionale per noi è stata sempre importante perché piccola realtà che si lega in partnership ad altre realtà. Scambio, quindi porre un accento di scambio con altre esperienze, altre esperienze più avanzate, oppure altri modi di fare le cose, di proporre situazioni e altre soluzioni che non si potevano pensare e cercare di riportarle sul debito orno. Dato importante e implicito sull'essere una cooperativa sociale integrata, parte dei miei colleghi, questa è la caratteristica dell'essere cooperativa, di tutte le cooperative sociali integrate, dovrebbe essere la caratteristica principale, quella che ci accunna con le cooperative, che parte dei miei colleghi sono persone sbandaggiate, in particolare la parte dei miei colleghi sono persone con diversa abilità, persone con diversa abilità dove lavoro, sono miei colleghi di lavoro, noi non siamo loro tutori, loro educatori, quindi sono i miei colleghi che partecipano alla costruzione della vita sociale della cooperativa e della vita lavorativa della cooperativa, ai processi decisionali interni della cooperativa. Un altro aspetto che per noi è sempre stato importante nell'ottica è stato quello della formazione, in questo caso formazione tecnica e professionale, quindi da subito abbiamo cercato di diffondere quello che sapevamo, una cultura tecnica, con un'idea che la conoscenza deve essere distribuita, deve essere distribuita perché se l'obiettivo è favorire l'utilizzo di tecnologie appropriate, io devo dare gli strumenti affinché queste si diffondano, è inutile proporle se poi non c'è nessuno che le sappica, quindi l'aspetto della formazione per noi è stato sempre essenziale in un'ottica di distribuzione della conoscenza e di formazione di collaboratori, non di competitori, questo è anche un diverso modo di affrontare, collaborazione non competizione. Innovazione tecnologica, progetti di ricerca, su queste slide ad esempio in particolare quella laggiù è un progetto sperimentale fatto anni fa con il Politecnico di Milano sul raffrescamento solare o la partecipazione a dei task dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, dei task di lavoro anche lì per la condivisione del sapere e la ricerca, ma anche progetti di attività, di capacity building, cioè di educazione ambientale, quindi un ampio arco di attività che si continua a portare avanti, poi per citarne poi alcune esperienze recenti, significative, di azioni sia ecologiche sia di integrazione, ad esempio vi cito questo programma che abbiamo seguito per diversi anni, che ha investito in diversi carceri italiane, di solarizzazione dei penetrazioni italiani, in particolare sul carcere di Belletri c'è stata una formazione di 300 detenuti e 100 es detenuti, con formazione di altre realtà che poi molte di queste persone hanno avviato attività lavorative, una volta uscite dal carcere, o corsi, attività formative, rivolte a migranti del territorio, proprio su questo coso, che vedete questa foto, due ragazzi del Bangladesh sono ritornati in patria e hanno aperto un'azienda che fa solarizzazione dei villacchi, con i quali continuiamo a rimanere in contatto, e quindi c'è stato un riporto di conoscenza in territorio. E ora, ora in realtà, quello che stiamo spingendo come attività è la nostra esperienza, che comunque più di dieci anni che ci siamo, cercare ancora di più di colettivizzarla e di andare verso una rete di economia positiva, con altri soggetti economici, o con un altro modo, con altri, il vedere di riuscire a creare un distretto di economia positiva, tutta la nostra. Vi lascio questa cosa che noi ci ricordiamo quando siamo nati stavamo nascendo e anche i primi anni ci davano dei pazzi, perché dicevano sarebbe stato un fallimento fare un'attività di operazione, un'attività di inclusione sociale all'interno del lavoro, e un'attività di ecologia sostenibile, che può con essere, perché è appunto tutti i principi dell'economia. Si sbagliavano, perché noi siamo ancora qui e alcuni di quelli che ci davano per spacciati in nascita non ci sono più. Grazie. 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 Grazie.